salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video oggi ci troviamo all'interno di una volkswagen antiroc anno 2019 e andremo ad attivare il menu fuori strada all'interno del nostro sistema come in questo caso ci da queste funzioni qua andremo a avere diciamo tutti gli altri menu per quanto riguarda il fuori strada e adesso vi farò vedere la codifica come si attiva e come esce qua per effettuare tale codifica come sempre abbiamo bisogno in questo caso dell'obd 11 in questo caso noi già l'abbiamo collegato alla macchina e adesso iniziamo andremo ad aprire l'applicazione un telefonino andiamo qua obd 11 connetti il telefono alla macchina ok perfetto una volta fatta la scansione di tutte le centraline andiamo nel menu andiamo nel modulo 5 f che sarebbe adesso farò vedere questo qua sistema elettronico e l'informazione perfetto e una volta dentro andiamo in accesso di sicurezza e sarebbe questo qua e andremo a mettere il nostro codice 20 103 20 mila 103 attiviamo codici di accesso accettato allora andiamo in codifica completa andiamo in byte 24 ecco qua andiamo qua andiamo ad attivare questa funzione confermiamo il tasto qua codifica accettata poi usciamo andiamo in adattamento stesso sulla dicitura qua sopra qua c'è scritto circa scriviamo car ecco qua car funzione adaptation generazione 2 qua e dentro qua in quest'altro sottomeno andiamo ad attivare le altre le altre diciture andiamo allora display menu display compass troviamo menu display compass all'interno di qua vediamo dove sta vediamo se in ordine alfabetico non in ordine alfabetico seatt central compass qua menu display compass adesso non è attivo e dobbiamo andare qui ad attivare questa funzione attiviamo questa funzione qua andiamo in compass menu display compass over there should height che sarebbe ecco qua perfetto questo qua menu display compass over there should height scusate il mio inglese andiamo qua andiamo qua andiamo ad attivare questa funzione qua pure poi andiamo in menu display angle off slope vediamo dove sta allora abbiamo detto menu angle vediamo un poco ecco qua andiamo ad attivare questa funzione qua andiamo ad attivare questa funzione qua andiamo ad attivare questa funzione qua ecco qua allora andiamo in come dicevo menu angle off slope ecco qua menu di display angle off slope ecco qua andiamo in menu display angle off slope over there should height questo qua di sotto attiviamo anche quest'altra voce qua e poi usciamo anzi confermiamo prima tutte le cose che abbiamo fatto perfetto 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 usciamo dobbiamo andare adesso in car function list bump gen 2 allora andiamo a direttamente bump qua e ci la direttamente questa qua ok questo qua car function list bump gen 2 dentro qua andiamo ad attivare adesso compass trattino basso 0 per 15 lo troviamo compass 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 ecco qua tattino 0 per 15 non attivo attivo perfetto e poi angle off slope 0 per 24 siamo in questa cina in acqua allora troviamo angle ecco qua angle off 0 per 24 attivo confermiamo tale dicitura e adesso usciamo una volta fatto ciò andiamo come sempre a riavviare il nostro sistema tenendo prima il tasto del tasto del tasto di accensione dello stereo per 10 15 secondi 1 2 3 adesso farò vedere tutto il riavvio del sistema a domani si spegnerà anche l'orologio togliamo il dito e si riavviare il sistema perfetto una volta ecco qua riavviare il sistema andiamo in car selezioniamo qua ecco qua vedete informazioni off ruote possiamo tranquillamente anche modificare vedete le nostre informazioni per quanto riguarda le varie funzioni della macchina vediamo un po così modifico qualcosa andiamo a girare adesso andiamo a girare lo sterzo e cambia l'angolo di sterzata vedete qua ci dà la bussola che comunque possiamo modificare tutte le informazioni vedete che c'è disponibile qua sono i chilometri che andiamo a fare in offroad e quant'altro questa è la temperatura dell'olio la temperatura dell'acqua e tutte le informazioni che noi possono essere utili possiamo mettere pure tipo le due ruote che una a destra vedete una a destra e quella a sinistra oppure tranquillamente possiamo mettere i chilometri quello che vogliamo ok ragazzi per oggi è tutto spero che il video vi è stato utile e vi è piaciuto come sempre vi consiglio di iscrivervi al canale di mettere un mi piace di condividere il video niente che altro dirvi attivare la campanella e condividete il video con più persone possibili se avete bisogno scrivete qualcosa nei commenti ci sarò lieto e felice di potervi aiutare ok ragazzi ciao ragazzi al prossimo video